Daniela Marconi, oggi era importante esserci a Manfredonia? Certamente, ci abbiamo lavorato tanto per questa iniziativa, per questa mobilitazione, l'abbiamo voluta definire così, anche per dare una risposta alle abitanti, alle persone che vivono qui, di non sentirsi soli anche nel dire no alla mafia, perché lo diciamo tutti quanti insieme. E anche il titolo della mobilitazione, Liberiamo Manfredonia, ha a che fare con il sentirsi liberi in un territorio che è oppresso da una criminalità strisciante, evidente ma anche sotterranea, e lo sappiamo bene quanti investimenti riesce a fare, spesso non compresa al 100%, a mio parere dobbiamo comprenderla e ripartire, e sentirci liberi in questa terra bellissima. Ecco, liberiamo la bellezza e l'ultima cosa che voglio dire, liberiamo la memoria di questa terra, non ridentichiamo le vittime di questa splendida terra, anche loro vivevano in questo luogo ed è giusto fare di questa memoria il nostro stimolo quotidiano. Ecco.